Alessandra è biologa nutrizionista, esperta di igiene degli alimenti. Da oltre 30 anni opera nel settore alimentare e cosmetico, quale consulente tecnico, esperto ed esaminatore presso numerose aziende in Canton Ticino e in Italia. Analisi degli alimenti e certificazioni internazionali sono il suo pane quotidiano, insieme alle attività di formazione in ambito scientifico, dietetico e delle risorse umane. Da sempre studiosa e appassionata di metodi di prevenzione naturale, di psicologia e di crescita personale. Elabora diete speciali per favorire la salute e il giusto nutrimento sia del corpo sia dell'anima. Con Anima edizioni pubblica Biologia della nuova era e le sue infidie, il suo intervento oggi porta il titolo l'anima, il sistema immunitario e gli alimenti. Ricordare noi stessi attraverso la magia del cibo per fare il pieno di energia ed essere sempre all'altezza della situazione. grazie ad Alessandra Corcelli per essere qui con noi e lascio a lei la parola. Prego Alessandra. Grazie, grazie mille a tutti. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sono felice di poter trovarmi qui oggi per parlare di questo argomento che tratta, riguarda un po' il nostro atteggiamento in questo periodo, il nostro sistema immunitario, come si comporta in un periodo così particolare, così difficile e quindi sono contenta di poter raggiungere anche molte più persone che chiaramente in queste occasioni non è così facile raggiungere. L'argomento è sicuramente molto ampio, molto complesso, quindi quelli che tratterò oggi saranno più che altro degli spunti di riflessione, spunti di riflessione per ricordarci chi siamo e ricordarci che siamo anche naturalmente un'anima, non solo un corpo e che in qualche modo tutto quanto è collegato. Ecco, quindi sistema immunitario, sicuramente ne abbiamo sentito parlare in tantissime occasioni in questi mesi, si è parlato tanto di salute e anche di malattia e quindi volevo cominciare innanzitutto questo discorso raccontandovi una mia esperienza personale, un'esperienza che è abbastanza significativa e poi capirete perché ho deciso di raccontarvela. In particolare dovete sapere che l'anno scorso mio figlio ha attraversato una situazione difficile, nel senso che è stato male, era uscito con degli amici per fare una passeggiata, faceva freddo e insomma ha cominciato a star male quando è rientrato poi a casa, improvvisamente ha cominciato ad avere dei forti tremori, una pressione bassissima quasi al limite dello svenimento, insomma si capiva che aveva preso una congestione, quindi aveva una situazione di questo tipo molto grave in cui la pressione era molto bassa, aveva tremori, freddo in tutto il corpo, quindi non era quasi più cosciente, nel senso era molto difficile in quel momento il suo stato di salute. Chiaramente ci siamo resi conto che era una condizione molto pericolosa perché dovete sapere che di congestione si può morire e allora insomma ci rendiamo conto che è il momento di correre in pronto soccorso, quindi siamo andati di corsa, abbiamo cercato di arrivare il più presto possibile, naturalmente appena arrivati l'infermiera di turno che valutava insomma la gravità della situazione ci ha fatto entrare subito, quindi mio figlio è stato poi subito seguito, curato e flevo, insomma elettrocardiogramma, insomma è stato seguito immediatamente perché effettivamente la situazione era difficile, quindi mascherina d'ossigeno così tutta notte. Potete immaginare, io sono emozionata ancora adesso, potete immaginare l'emozione o perlomeno la paura, la tristezza, insomma questa condizione di indeterminatezza, una condizione in cui avevo paura per la vita di mio figlio, avevo proprio paura di perderlo. Però per fortuna durante tutta la notte viene seguito e assistito nel migliore dei modi, alla fine il giorno dopo comincia a stare meglio, decidono di dimetterlo e quindi torniamo a casa. Io lo assisto per tutta la giornata, tutto bene, quindi a quel punto mi rendo conto che la situazione di pericolo è passata. Ma quel giorno, il giorno dopo, io in questo caso comincio a stare male, ma un malessere improvviso. Io in realtà il giorno prima stavo assolutamente bene, non avevo nessun tipo di malessere, in realtà è successo che mi è venuta una tosse tremenda, un'infiammazione come se mi bruciassero i polmoni, avevo un mal di schiena, un mal di reni, come se improvvisamente mi fosse precipitato addosso un macigno e quindi facevo anche fatica respirare. Di colpo, apparentemente senza nessun motivo. In realtà il motivo c'era. Io avevo avuto una grandissima paura di perdere mio figlio e forse non tutti sanno, io in realtà lo sapevo ma ho realizzato naturalmente dopo, che per esempio nella medicina cinese la paura, la tristezza sono associati proprio ai polmoni e per esempio la paura di morire ai reni. Quindi nel momento in cui ho avuto questi disturbi, in realtà era una chiara manifestazione, se vogliamo, energetica del mio organismo che mi stava dicendo guarda che tu hai avuto una grandissima paura, hai avuto una situazione di stress incredibile. Quindi è una questione di energia. La malattia non è sempre solo una condizione esterna, è sicuramente a volte anche una condizione interna, quindi come siamo noi e come ci poniamo nei confronti del mondo esterno. E quindi che cosa viviamo oggi? Ho fatto questa introduzione proprio per spiegare, per introdurre un po' l'argomento perché se ci pensiamo noi è da parecchi mesi che abbiamo una condizione di paura costante. Che cosa stiamo vivendo? Stiamo vivendo una grandissima condizione di stress, nostro malgrado naturalmente. E quindi lo stress si manifesta in tante forme, da un punto di vista proprio fisiologico. Io quindi ho voluto anche darvi qualche esempio, non so se avrete modo di vedere le slide, se le potete vedere in questo momento, penso di sì. Quindi cosa succede? L'organismo nel momento in cui sta vivendo una condizione esterna che va a interferire sul suo equilibrio, sulla sua omeostasi, deve adattarsi perché o si adatta o si muore, ovviamente. Quindi bisogna adattare. Quindi questa tecnicamente si chiama sindrome di adattamento. Quindi noi andiamo incontro a una sindrome di adattamento che di fatto si divide in due fasi. Una fase che è una risposta a breve termine, quindi una risposta immediata, molto rapida, e una fase che invece è una fase a lungo termine, quindi un po' più rallentata nel tempo. Allora, senza entrare troppo nel tecnico naturalmente, però ecco mi piaceva l'idea di dare un po' più anche un'evidenza biochimica di quello che accade nel nostro organismo, possiamo dire che quindi la prima fase, quella più rapida e immediata, è proprio la fase di allarme vero e proprio. Quindi l'organismo reagisce in maniera estremamente rapida, proponendo, quindi andando a secernare, quindi a produrre dei segnali molto rapidi che partono dall'ipotalamo, quindi dal nostro cervello e arrivano alle ghiandole surrenali per andare a stimolare la secrezione di alcuni ormoni che in realtà probabilmente magari non sempre tutti conoscono il nome di questi ormoni, ma li conosciamo molto bene per le reazioni che questi ormoni causano, che sono appunto l'adrenalina e la noradrenalina che determinano cosa nell'immediato? Un aumento del battito cardiaco e quindi un attacchi cardia di tutti gli effetti, quindi un'accelerazione di quello che è l'agitazione, lo stato di agitazione e naturalmente sudorazione. Ci sono una serie di sintomi che possono essere molto chiari, quindi un'agitazione, il fatto che è come se dovessimo scappare in fretta da questo pericolo, quindi istintivamente l'organismo a quel punto attacca, diciamo, quel sistema di gestione dell'emergenza e quindi aziona questa risposta, questa reazione. Una seconda fase invece è quella un pochino più di resistenza, quindi una vera e propria condizione di adattamento, quindi c'è lo stimolo stressoreo ancora, quindi c'è ancora questa situazione di paura e naturalmente sempre l'ipotalamo determina la secrezione di altri ormoni i quali vanno ad agire sempre sulle nostre ghiandole surrenali che per chi non lo sapesse appunto, non so se avete presente i reni, li abbiamo diciamo in una posizione posteriore, quindi verso la parte posteriore della schiena in basso e sopra i reni abbiamo queste ghiandole che in questo caso vengono indotte a secernere la corticotropina che è un altro ormone il quale a sua volta, quindi l'ipotalamo indica, invita in qualche modo l'ipofisi a secernere la corticotropina la quale a sua volta andrà a stimolare le ghiandole surrenali, ghiandole surrenali che a quel punto emetteranno cortisolo, ecco cortisolo, quindi cortisolo o comunque altri ormoni simili che hanno degli effetti ben precisi nel nostro organismo e quindi siccome tuttora noi siamo ancora in una condizione un po' di allarme eccetera, quindi noi ci ritroviamo a vivere questa fase di resistenza che è quasi interminabile perché abbiamo cominciato a gennaio, febbraio a cominciare ad avere le prime avvisaglie, quindi qualcuno cominciava già un po' a sollevare un po' le antennine e il nostro corpo naturalmente ha cominciato ad avere diciamo delle reazioni ben precise, quindi questa fase di resistenza in realtà è una fase che per molti di noi è ancora perdurante e quindi la domanda è ma quanto cortisolo abbiamo prodotto finora? Quanto ne abbiamo ancora in circolo? Quindi non abbiamo ancora potuto fermare, concludere questa fase e poi avere una fase di diciamo di cessazione del pericolo e quindi in realtà è come se fossimo ancora sospesi. Ecco quindi quanto cortisolo abbiamo ancora in giro? E allora naturalmente è interessante osservare uno studio che è stato diciamo richiesto e proposto dall'Ordine Nazionale degli Psicologi, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha commissionato uno studio all'Istituto Piepoli per andare a vedere diciamo qual era la condizione psichica, la condizione psicologica degli italiani in questo caso, visto che insomma abbiamo trascorso dei mesi un po' particolari e da questo studio è emerso un dato incredibile, assolutamente unico nel senso che in passato non era mai capitata una cosa del genere e questo dato dimostra che il 63% degli italiani soffre di uno stress da pandemia, quindi uno stimolo stressorio legato alla pandemia, a questa condizione che stiamo vivendo a livello sociale che porta una serie di sintomi e sono sintomi proprio caratteristici e in effetti se ci pensiamo moltissime persone sono assolutamente diciamo in pieno stress pandemico tuttora. Quali sono i sintomi principali? I sintomi principali sono appunto principalmente per esempio l'insonnia, quindi la difficoltà di addormentarsi oppure ci si addormenta ma poi ci si sveglia in piena notte e non si riesce più a dormire. Apparentemente non si sa perché, in realtà il motivo c'è, è quel famoso stimolo stressorio che ancora rimane e perdura. E poi ci sono altre altre forme di stress che si manifestano con l'ansia, quindi l'ansia di fare le cose, l'ansia di non farcela, la rabbia, ecco la rabbia. Io personalmente anche ho incontrato molte persone che magari in certi momenti avevano degli accessi di rabbia assolutamente incontenibile e apparentemente ingiustificati perché non c'era un vero motivo, un motivo così grave da determinare la rabbia di queste persone. Lo scoraggiamento, questo è anche un pochino più comprensibile se ci pensiamo, con tutto quello che sta accadendo moltissime persone probabilmente stanno perdendo il posto di lavoro, lo perderanno, quindi c'è questa tristezza, questo malessere che in qualche modo magari non manifestiamo in maniera esplicita però lo viviamo all'interno. Apatia, quindi il disinteresse per qualsiasi cosa, la mancanza poi di voglia di vivere, quindi insomma c'è un crollo letterale, la paura, ecco la paura, quindi è proprio questo il manifestarsi di questo stress pandemico, quindi la paura, abbiamo una gran paura. Perché? Perché in realtà non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel e quindi questa cosa evidentemente incide sulla nostra salute, il nostro benessere anche psicologico. E allora ricollegandoci a quello che avevo detto prima, l'esempio che ho fatto prima, ho raccontato appunto di quello spavento tremendo che io stessa da madre ho avuto nei confronti del rischio che stava correndo mio figlio e in effetti, ripeto, questo fenomeno si spiega anche biochimicamente, biologicamente, perché in qualche modo quando arriva questo stimolo stressorio, quindi quando arriva questa paura, cosa succede? Che una buona parte dei vasi, soprattutto i vasi viscerali, quindi quelli che portano, che devono portare l'ossigeno nel nostro organismo, alcuni vengono chiusi, altri vengono maggiormente dilatati verso, verso cuore, verso polmoni e verso magari la muscolatura, perché appunto istintivamente è come se dovessimo scappare verso un pericolo, quindi ci contraiamo pronti per fare uno scatto come nella corsa. E allora è come se avessimo un eccesso di energia, un sovraccarico di energia a carico del cuore e dei polmoni e poi della muscolatura, che poi è quella che tendenzialmente tenderà ad avere dei crampi, perché è come se rimanessimo contratti, quindi anche i crampi o altre formi, tipo le tendiniti, ci sono tantissime persone che in questo periodo hanno deciso di, ma vado a fare una corsetta così mi rilasso un po', e improvvisamente hanno cominciato ad avere problemi di tendinite, infiammazioni un po' in tutto il corpo, soprattutto quelle parti dove viene veicolata maggiormente questa energia. Ma questo eccesso di energia da una parte, quindi questo sovraccarico, porta quindi una carenza da un'altra parte, quindi da una parte, quindi andiamo a spostare gli equilibri, perché il nostro organismo vive di equilibri, noi siamo un sistema estremamente complesso, abbiamo miliardi di processi metabolici che si svolgono contemporaneamente, quindi l'equilibrio è fondamentale, perché è quello che ci permette di vivere in salute. Allora spostiamo questa energia, viene spostata in eccesso verso il cuore e quindi si tenderà ad avere continuamente, magari anche durante la notte, degli attacchi di tachicardia, oppure i polmoni, si fa fatica quasi a respirare, che sembra un controsenso, perché se io ho troppa energia è come se avessi caricato troppo quella parte, quindi faccio paradossalmente fatica a respirare. E dall'altra parte invece vado a toglierla in altri sistemi di mantenimento che sono invece importanti, come il sistema immunitario. Il sistema immunitario è un sistema tipicamente di mantenimento, è come se noi dovessimo scappare da un leone, non è che in quel momento ti stai a preoccupare se ti sei fatto un tagnetto e ti può venire un'infezione, in quel momento dell'infezione alla mano non te ne importa un accidente, quindi devi scappare lontano. Quindi il meccanismo di difesa sul tempo breve è accentuato e mentre il meccanismo di difesa sul lungo periodo viene assolutamente svantaggiato. E quindi naturalmente la paura che cosa significa? Che è una condizione molto pericolosa se viene protratta per troppo tempo. Quindi il sistema immunitario, in questo caso, quindi parliamo naturalmente di sistema immunitario che viene penalizzato, ma anche la digestione, i visceri, tutto il sistema viscerale che in quel momento non vive di attività, di mantenimento, ma anche di crescita. Se ci pensiamo, il sistema della digestione e dell'intestino, dell'assorbimento nel momento in cui vengono penalizzati vuol dire che noi assorbiamo male i nutrienti, perché in quel momento non possiamo crescere, non possiamo andare in una direzione di crescita, ma esattamente al contrario, in una direzione opposta alla crescita e quindi paradossalmente opposta alla vita. E quindi il sistema immunitario in primis non reagisce correttamente nei confronti anche di attacchi esterni, per esempio infezioni batteriche, infezioni virali o anche per esempio tante altre patologie, tra cui naturalmente anche il tumore. quindi riassumendo, abbiamo una condizione di stress che causa una produzione, una liberazione di cortisolo che traducendolo in maniera concreta determina un aumento della glicemia, perché di fatto viene liberata una grande quantità di glucosio proprio per l'idea di dover scappare da quel pericolo e quindi alimentare la massa muscolare che dobbiamo scappare lontano e quindi iperglicemia, un eccesso di glicemia. Ecco immaginatevi che cosa succede se abbiamo un eccesso di glicemia per dei mesi interi, a che cosa possiamo andare incontro? Lo stress quindi determina non solo un aumento di glicemia nel sangue ma anche dall'altra parte una chiusura di alcuni vasi che sono quelli deputati alla sopravvivenza, al mantenimento delle funzioni vitali di base e si genera quindi acidosi perché arriva meno ossigeno ai muscoli, scusate arriva meno ossigeno alle parti viscerali e quindi al resto dell'organismo, quello che in qualche modo non è coinvolto in una fuga rapida. È chiaro che quando dobbiamo fuggire non c'è tempo di pensare. Chi ha tempo di pensare? Quando sei occupato a fare qualcosa di urgente difficilmente si sta lì a riflettere e a prendersi il tempo per pensare, quindi non c'è tempo per pensare. Questa cosa da un punto di vista anche lì fisiologico la possiamo vedere, quando ci pensiamo, pensiamo al cervello razionale, il cervello razionale in qualche modo ha una funzione in questo momento secondaria, mentre la parte del cervello istintivo è quello che prende il sopravvento, è come se noi staccassimo la spina dal cervello razionale e lo collegassimo al cervello istintivo, primitivo, che poi è il cervelletto. Naturalmente il discorso di fuggire ci rende paradossalmente il cervello meno ossigenato, quindi vasi che si contraggono porta meno ossigeno al cervello e naturalmente la parte razionale viene anche qui penalizzata verso la parte istintiva e quindi di fatto abbiamo una minore capacità intellettiva e una maggiore stupidità. Paradossalmente quando abbiamo paura siamo decisamente più stupidi, manca poco che non riusciamo a fare quasi 2 più 2 perché naturalmente è un aspetto importante. Adesso magari vi faccio vedere proprio per farvi capire cosa accade quando c'è una minaccia importante e poi magari non so se ci fossero delle domande, approfittiamo in questa fase di dare spazio magari a qualche domanda. Concludendo l'argomento, quindi tanto per non interrompere il filo, minaccia, quindi abbiamo una minaccia esterna, la minaccia determina la paura, la paura porta alla chiusura, quindi l'organismo si chiude come arriccio per proteggersi, quindi in quel momento non pensa a crescere e quindi siccome noi in realtà è come se crescessimo sempre perché i sistemi vitali anche di sostituzione cellulare sono fondamentali, sono legati alla crescita, in quel momento smettiamo di crescere e quindi c'è un blocco. Nel tempo se questo stimolo non arriva a concludersi, arriva la morte, la morte intesa proprio fisiologicamente nel senso che l'organismo non va avanti. I vasi dell'intestino si chiudono, non assorbono, tendono ad assorbire molto poco, quindi si va verso una perdita di energia. Mentre se invece non abbiamo alcuna minaccia esterna, quindi finalmente possiamo tirare un bel sospiro di risoliamo, cosa significa? Significa che in realtà finalmente possiamo gioire della vita, possiamo vivere, quindi è una condizione di amore. Vedete che c'è una contrapposizione anche se vogliamo spirituale tra la paura, che è una paura di morire, e invece la gioia di vivere, che è la possibilità di lasciare andare e quindi di avere quella che si definisce un'apertura verso la vita. E quindi cosa significa? Che si cresce, si continua a vivere. L'organismo in maniera fisiologica distribuisce generosamente i nutrienti a tutto l'organismo, quindi a ogni distretto corporeo, perché se abbiamo anche qualche ghiandola che magari nella fase di emergenza o qualche organo, qualche tessuto che è meno importante, in realtà sono tutti importanti, non abbiamo organi che sono inutili. Quindi in quel momento c'è questa fase di generosità della vita e l'energia si distribuisce a tutto l'organismo. Ecco, quindi questo è un aspetto estremamente affascinante della vita, della biologia e quindi naturalmente ecco un po' il collegamento che c'è tra la paura e la morte e la non paura, quindi il fatto di essere aperti alla vita, di gioire della vita e quindi apertura verso l'amore. Ci sono Alessandra dei commenti da parte dei nostri utenti, anche ringraziamenti, apprezzamenti vari, ti leggo i loro interventi. Renzo quando ha iniziato a parlare diceva tema molto attuale quello delle difese immunitarie. Certo. Allora Diego sottolinea cibo e emozioni influenzano psiche e corpo. Assolutamente sì. Alba Chiaras, non capisco se è una domanda o un'affermazione, comunque scrive ciò che dice anche Amer, quindi non so se quello che tu dici può avere un collegamento con il dottor Amer. In qualche modo Amer aveva intuito alcuni aspetti che diciamo la scienza sta dimostrando adesso, poi il discorso di Amer è un pochino più complesso, è un pochino diverso, però di sicuro sicuramente la nostra psiche ha un effetto diretto tangibile su quello che è il nostro stato di salute, sia da un punto di vista proprio fisiologico come vi ho raccontato finora e quindi sul fatto che ci siano appunto i vasi che fisicamente si chiudono, quindi non portano cibo a determinati distretti corporei, ma è proprio una questione anche mentale di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti piuttosto che su altri. Quindi sicuramente è importante, sì. Paolo scrive eliminando la farmacia trovi la via naturale, ciò che tiene a bada il male. Lui deve essere un grande sostenitore dei metodi naturali. Dei metodi naturali, evidentemente. Ecco questo è un discorso naturalmente complesso, qui chiaramente adesso stiamo introducendo, diciamo stiamo parlando di discorsi che possono essere in realtà approfonditi addirittura in una settimana di chiacchierata. Quello che possiamo dire è che sicuramente senza togliere meriti alla medicina, anche moderna, che sicuramente ha fatto anche dei grandissimi passi da gigante in questi ultimi anni, diciamo che la medicina attuale è molto focalizzata a un'azione molto mirata, molto limitata agli specialisti d'organo, in qualche modo io uso dire questo termine, nel senso che tendenzialmente molte situazioni vengono gestite come a compartimenti stagni e tendenzialmente a volte, ecco con la medicina classica si fa un po' questo, nel senso che hai un problema al fegato e allora si tratta, si utilizza un farmaco che è orientato a trattare il fegato. Ci vuole tutto, nel senso che bisogna sempre capire e poi entrare nel merito specifico caso per caso perché noi non siamo tutti uguali, questo bisogna sempre ripeterlo e sottolinearlo. Quindi ogni trattamento anche fosse farmacologico deve essere fatto con cognizione di causa dal medico che ti conosce, ti conosce anche molto bene e proprio perché ti conosce molto bene, ecco non si può pensare di lavorare a compartimenti stagni, quindi la persona è una persona che è dotata di una storia personale, magari di esperienze che ha fatto da bambino e che magari l'hanno traumatizzato, oppure proprio ecco a livello psicologico c'è chi è più forte, chi è meno forte, tutto questo ha effetto naturalmente sull'organismo, detto questo anch'io sono assolutamente a favore tutte le volte che è possibile di trattamenti naturalmente naturali mi verrebbe da dire, quindi ovviamente naturali, infatti poi dopo lo vedremo fra poco, do qualche suggerimento, qualche piccolo consiglio per affrontare un po' questi momenti difficili. Ci sono poi due persone che tengono a salutarti, quindi riporto il loro messaggio, ciao carale, ci sono, è Lucia e poi Nadia, ciao Ale, ci sono anch'io, ho la sensazione che tu possa conoscere queste due persone. Sì, le conosco, le saluto naturalmente affettuosamente tutti, sicuramente ci sono anche altri che so che mi conoscono, che mi stanno guardando. Sì, non te li sto leggendo tutti. No, no, li saluto tutti col cuore. Vi leggo invece la domanda di Maria Teresa, la paura è inconscia? Mi succede di dormire poco, ma non ho paura del virus perché cerco di tenere alte le energie, quindi grandi difese. Ok, questo è un discorso molto ampio perché vedete io in realtà non ho parlato, oggi non sto parlando in maniera esplicita del virus, in realtà la paura è un concetto molto ampio, molto più ampio. Poi sicuramente la pandemia ha influito tantissimo su ciascuno di noi, in maniera anche inconsapevole, attenzione, perché non dobbiamo dimenticarci che la parte razionale è una cosa e poi c'è la parte inconscia. Sicuramente la parte inconscia ha un effetto importante, anzi forse direi soprattutto la parte inconscia, perché la parte razionale è quella che tiene a bada tutto, quindi oggi devo andare a lavorare, devo fare questo, questo e quest'altro e quindi gestisce il più apparentemente, ma in realtà la notte per esempio, questo è uno dei motivi per cui moltissime persone soffrono di insonnia, è il regno dell'inconscio, quindi in quel momento la parte razionale viene messa da parte e a quel punto il 95% del nostro potenziale anche mentale in realtà è più intuitivo, più inconscio. Ti posso leggere un altro paio di domande? L'ultimo sì, poi dobbiamo procedere perché sennò a meno che io devo guardarti volentieri, sì. Perché Giorgio chiede cosa ne pensi, cioè alimentazione a seconda del gruppo sanguigno, come sostiene Mozzi, cosa ne pensi? E poi per esempio Lorella, è possibile che gli effetti dello stress si vedano a distanza di tempo e non subito? Ok, sì. Allora, il discorso di cosa ne penso delle diete del dottor Mozzi, che conosco molto bene, sicuramente esprime tantissimi argomenti che io condivido in parte, il discorso dei gruppi sanguigni vale fino a un certo punto, diciamo perlomeno per l'esperienza che ho potuto fare io, perché facciamo un esempio qualsiasi, ecco in quel tipo di diete si parla di persone che hanno problemi di intolleranza al glutine e si danno delle indicazioni ben precise, per esempio. In realtà è stato dimostrato che per esempio la celiachia è spalmata trasversalmente su qualsiasi tipo di gruppo sanguigno, quindi in realtà non è tanto una questione di gruppo sanguigno, che non vuol dire che sia totalmente non attendibile questa teoria, anzi, ripeto, dice tantissime cose che sono assolutamente sensate e condivisibili, infatti le ho condivise anch'io, ho trattato proprio questi temi anche nel mio libro, quindi ho spiegato alcune cose. La seconda domanda è se gli effetti di questo stress, di quello che hai spiegato, possono arrivare più tardi nel tempo. Anche più tardi, assolutamente sì, lo stress è una condizione, come dicevamo prima, che parte lo stimolo, c'è una reazione immediata e poi c'è una fase di resistenza, questa resistenza volta può durare addirittura anni prima che si manifestino alcune malattie, ma in realtà ce ne sono alcune che sono abbastanza rapidamente manifestabili, tanto per dire, prima stavamo parlando poco prima di cominciare questo evento, si parlava di infarto per esempio, l'infarto è una condizione di acidosi metabolica perdurata nel tempo e quindi quando viene l'infarto? e chi lo sa, potrebbe essere che magari vai avanti così anni prima di manifestare certi sintomi oppure accade subito, quindi l'acidosi metabolica è un po' la base di queste situazioni di malattia, ce ne sono alcune che sono latenti, rimangono latenti per tanto tempo e in realtà è il cortisolo che lavora sotto sotto per tanto tanto tempo e quindi questo è uno dei motivi per cui ci tenevo a parlare oggi di avviare anche un percorso di tipo diverso, quindi d'accordo lo stress non dico che ormai fa parte quasi della vita perché chi non è stressato, chi non ha condizioni di difficoltà ad affrontare quotidianamente, la paura appunto di parlare col superiore piuttosto che la paura di perdere un posto di lavoro o anche in famiglia perché a volte ci sono delle condizioni di stress che sono anche all'interno della famiglia, relazioni tra le persone, quindi queste condizioni devono essere in qualche modo metabolizzate, quindi bisogna fare un lavoro su di noi per capire perché abbiamo così tanta paura, per esempio, ma questo è un discorso lunghissimo, però ecco, magari se continuo poi a limite altre domande le possiamo fare alla fine, sì, come no, volentieri, ecco quindi come dicevo è proprio una questione di emozioni, è una questione di energia, energia che viene accumulata da qualche parte e sottratta da altre parti e quindi bisogna naturalmente cercare di lavorarci su questo problema, chiamiamolo così. Qualcosa possiamo fare sicuramente di molto efficace proprio attraverso il cibo perché quello che noi mangiamo è importantissimo, non è il fatto di nutrire l'organismo con un po' di proteine, un po' di zuccheri, un po' di grassi, ecco, bisognerebbe abbandonare un po' questo approccio un po' primitivo se vogliamo perché in realtà noi non siamo un ferro da stiro, non siamo un semplice marchingenio che metti la benzina come una macchina e funziona e va, quindi abbiamo bisogno di tante altre cose, in realtà come dicevamo prima di paura inconscia, l'inconscio, in realtà che cosa risiede nell'inconscio? L'anima. Noi abbiamo un'anima che anche lei deve essere nutrita, quindi il cibo sì, ma nutrimento non solo per il corpo ma anche per l'anima e allora questo nutrimento deve essere scelto con amore. Ecco parlavamo prima di amore, amore verso la vita, gioia di vivere, ecco anche il momento del pranzo, il momento del cibo, del fatto di assumere qualcosa che ci nutra, ci nutra davvero, non deve riempire la pancia e ci deve togliere il buco della fame, deve essere qualcosa che va oltre, perché anche il cibo, come noi siamo energia, se noi andiamo a guardare come siamo fatti, siamo fatti di molecole, di atomi, abbiamo un'energia incredibile che in realtà manda avanti la vita. Ecco, quindi anche il cibo ha energia naturalmente, in primis biochimica ma anche non solo e naturalmente bisogna sceglierlo con amore. Quindi questo cibo deve trasmettere a noi energia, non solo, quindi il gusto, il sapore, il gradevole e quant'altro, ma deve essere cibo per l'anima e deve essere in armonia con il mondo. Quello che diciamo dobbiamo completare, quindi questo discorso, noi abbiamo poi ci siamo persi un po' nelle domande, però giustamente abbiamo i tempi un po' stretti. Allora dicevo che dobbiamo cercare di ritrovare quello che è il sentiero della salute. Chiaramente la paura ci mette in difficoltà, perché in quel momento è come se non capissimo più cosa dobbiamo fare veramente. E allora dobbiamo innanzitutto cercare di non farci del male mangiando il cibo sbagliato. E qualcuno potrebbe dire, e qual è il cibo sbagliato? Ma allora innanzitutto dobbiamo cercare di capire che questo ci deve fornire non solo energia ma anche buon umore. Quindi la scelta del cibo deve andare nella direzione di sostenere il nostro livello energetico e non sottrarre energia. Cosa intendo per sottrarre energia? Intendo dire che a volte noi mangiamo degli alimenti troppo pasticciati con un sacco di additivi, di conservanti. Ecco per esempio queste sostanze non hanno un vero ruolo nutritivo, un additivo non serve a nulla. Quindi nel momento in cui io mangio un alimento che è molto ricco di additivi, in realtà io sto sottraendo energia al mio organismo perché quell'additivo lo dovrò poi smaltire. Dovrò utilizzare energia per eliminare questo additivo e quindi dovrò cercare di fare già una scelta di questo tipo. Quindi cominciare a leggere le etichette, cominciare a fare la spesa magari possibilmente quando non si ha fame, quindi andate, mangiate prima e poi andate a fare la spesa così magari la parte meno istintiva e più razionale ha il sopravvento e allora riusciamo a controllare bene queste cose e comunque controllare tante piccole cose. Io tante volte dico stiamo mangiando, dedichiamo qui 10 minuti, 5-10 minuti, sediamoci, stiamo tranquilli, non accavalliamo le gambe che anche quello tante volte è una sciocchezza ma la cavallera le gambe sottrae energia a quello che noi stiamo facendo, beviamo, beviamo sicuramente acqua naturale, possiamo bere estratti, diciamo frullati di frutta fresca, anche di verdure, magari possibilmente per primi, così sono facili da digerire, ci sottraggono anche lì meno energia e magari ci saziano un po' di più così non siamo portati a mangiare cose che in realtà dopo ci darebbero fastidio. Le bevande, tutto ciò che è vivo, che è di stagione, va assaporato, l'energia va sentita. Dobbiamo immaginare che questa energia che entra nel nostro corpo viene distribuita a tutte le nostre cellule, dobbiamo in quel momento amare il nostro corpo, il nostro organismo, perché solo così noi avremo anche quel tipo di energia, non solo l'energia biochimica ma l'energia di amore che deve essere distribuita attraverso i vasi a tutto l'organismo, quindi attraverso poi biochimicamente, biologicamente, attraverso i vasi sanguigni, ma deve arrivare ovunque, quindi è un'energia che dobbiamo mandare al nostro corpo. E naturalmente ci sono alcuni alimenti, io brevemente, perché il tempo so che sta per scadere, posso consigliare per esempio quegli alimenti che sono ricchi di alcune sostanze che ci aiutano a stare meglio, ad avere meno ansia, ci aiutano anche proprio da un punto di vista concreto. Quindi per esempio il riso integrale, possibilmente biologico naturalmente, è una grandissima forma di antinfiammazione, quindi è una cosa naturale che possiamo fare quando vogliamo, regolarmente alternandolo magari ad altri cereali come il grano saraceno, l'avena per esempio, sono potenti antinfiammatori naturali ricchi di vitamina B e di triptofano per esempio, che è un amminoacido che favorisce la secrezione di un ormone particolare, in particolare la serotonina, che è una sostanza che proprio viene chiamato l'ormone del buon umore. Quindi cercare di prediligere quegli alimenti che favoriscono la secrezione di questa serotonina, che poi in realtà è carica di molto di più, quindi quando gira la serotonina in realtà noi stiamo bene, siamo felici e riusciamo a godere della vita insomma. E aggiungo, visto che si parla di questo periodo un po' particolare, senza entrare troppo nel merito, utilizzate anche degli integratori, possibilmente di origine naturale o comunque su base naturale, non disdegniamo assolutamente, a volte si è parlato anche in maniera un po' critica della vitamina C, della vitamina D, in realtà sono dei potentissimi antinfiammatori e antiossidanti e quindi in determinati momenti li si può utilizzare normalmente, ma in altri momenti in cui siamo un po' più deboli e abbiamo un grandissimo stress, di queste sostanze ne consumiamo tantissimo. E quindi bisogna aumentarne molto di più di quello che normalmente non faremmo. E quindi invito a consumare questo tipo di integratori, ripeto, partendo da sostanze naturali, quindi a base naturale. E poi batteri lattici, fermenti lattici che sono fondamentalmente bifidi, lattobacilli, magnesio, zinco, le vitamine del gruppo B tra l'altro aiutano proprio il cervello, quindi sono degli antinfiammatori naturali per il nostro cervello e quindi indirettamente va a lavorare anche sullo discorso della paura. E poi se proprio non ce la facciamo con l'alimentazione, qualche tisana o qualche integratore, sempre a base di, per esempio, ce ne sono alcuni interessanti, di rhodiola, a base di rhodiola, e leuterococco e ginseng, oppure una bella tisana di tiglio alla sera che aiuta a riposare meglio, a ridurre lo stress, a abbassare il cortisolo. Ultimo e poi concludo, perché in realtà potremmo dire molto di più ancora. Ecco, magari ce l'abbiamo? Ah, io ero timorosa perché vedevo i segnali di fumo del tempo che comunque tende a concludersi. Abbiamo un quarto d'ora, poi nel caso usiamo anche gli ultimi minuti per rispondere alle altre domande. Volentieri, sì sì sì, adesso ripeto, concludiamo dicendo quindi che in questo periodo, quindi dobbiamo andare a contrastare quella condizione di non solo acidosi metabolica che è causata indirettamente dalla presenza appunto del cortisolo, dall'iperglicemia, perché se si pensa ecco all'iperglicemia, che cosa causa? Perché un eccesso di zucchero nel sangue, che cosa comporta? Comporta che i nostri globuli rossi fanno più fatica a legare l'ossigeno. Non è una cosa da poco, perché infatti, per esempio nei diabetici, l'emoglobina glicata è il parametro che viene cercato, che dà un po' l'idea dell'allarme. Quindi c'è troppo glucosio nel sangue, vuol dire che i globuli rossi non riescono a legare facilmente l'ossigeno. E qui vedete un circolo vizioso, perché poi anche lì abbiamo meno ossigenazione dei tessuti e quindi un'acidosi anche in questo caso. Quindi per andare a ridurre questi fenomeni di acidosi metabolica, con l'alimentazione abbiamo detto scegliamo con grande attenzione gli alimenti di cui nutrirci, andiamo, per esempio, tutte le volte che possiamo, facciamo passeggiate all'aria aperta, in serenità, respirate a pieni polmoni, che è una cosa che stiamo facendo con grande fatica di questi tempi, perché ahimè, dovendo indossare in alcuni casi la mascherina, questo ci limita tantissimo. Quindi anche qui abbiamo una ridotta ossigenazione in qualche modo dei tessuti. Quindi tutte le volte che potete, andate all'aria aperta, respirate ossigeno. E magari già che siamo in giro, a farci la nostra bella camminata, non è che dovete proprio fare ginnastica, perché poi ci sono gli appassionati dello sport che corrono tutti i giorni, regolarmente, però, per esempio, ci sono alcuni movimenti che sono veramente preziosi. Ho riferito apposta, non so se riescono a vederlo, insomma, a penso di sì, ecco, per esempio, ho messo un'immagine che fa vedere molto bene come andare ad allungare un muscolo particolare che si chiama psoas, che guarda caso si chiama, un muscolo viene anche chiamato il muscolo dell'anima. Perché? Perché in realtà quando andiamo a sciogliere quel muscolo si riattiva tutto, si riattivano i centri energetici, si riattiva la circolazione e quindi i nutrienti vengono anche distribuiti meglio all'interno dell'organismo e quindi anche l'energia. E quindi è naturalmente importantissimo contribuire in tanti modi, quindi con il cibo, con i pensieri possibilmente positivi, godendo di panorami molto belli in mezzo alla natura, facendo dei movimenti col corpo che possono migliorare anche questa distribuzione. Quindi tutti questi sono elementi che contribuiscono in qualche modo a farci stare meglio e all'ideare quello che appunto è lo stress. Naturalmente, poi consiglio, a maggior ragione quando ci si avvicina ad andare a letto, dicevamo, ecco, magari, non perché in televisione non ci sia qualcosa di interessante da vedere, da ascoltare, però spegnete la televisione ogni tanto, tutte le volte che potete, no? Andate proprio a creare il silenzio nella vostra camera da letto, bisogna cercare di disintossicarci di telefono, di televisione, di qualunque agente di disturbo, perché questo in realtà continua a mantenere alti questi livelli di stress, che noi magari non percepiamo in maniera consapevole, ma che in realtà il nostro cervello, anche quando noi apparentemente dormiamo, riceve segnali e quindi anche attraverso questi strumenti possiamo essere disturbati. Quindi un momento di tranquillità, di silenzio oppure di preghiera, ecco per esempio c'è chi naturalmente approfitta della sera per fare qualche preghiera o qualche pensiero positivo per il giorno dopo, questo sicuramente aiuta, sosseggiandoci appunto magari una bella tazza di infuso di tiglio, che tra l'altro è anche molto facile da fare, basta un cucchiaio di fiori e foglie, lasciateli infondere quando avete portato l'acqua a ebollizione, li lasciate per una decina di minuti, poi filtrate tutto e ve la sorseggiate magari con tranquillità e poi dopo potete anche andare a riposare. Quindi non ci sono diciamo controindicazioni per questo tipo di bevanda, anzi addirittura pare che abbia degli effetti talmente rilassanti, talmente benefici che vada ad abbassare un pochino quelli che sono i livelli proprio di cortisolo. Addirittura ha un effetto anche un po' diciamo che contrasta l'ipertensione, quindi tornando al discorso dell'attacchi cardiaque di calma proprio. Ecco quindi quello che bisogna fare fondamentalmente è quello di fermarsi, di ascoltarsi, se c'è una parte del nostro corpo che è un po' dolorante, bisognerebbe fare come farebbe la mamma quando ha il bambino che magari si è fatto male o sta soffrendo, lo abbraccia e lo accarezza. Ecco non dimentichiamoci che noi possiamo farlo con noi stessi, quindi possiamo tranquillamente accarezzare la parte, quindi magari ci fa male il cuore, ci fa male il fegato, di mettere le nostre mani su quella parte del corpo come se la dovessimo accarezzare, come se gli dovessimo dire ti mando un po' di energia, ti aiuto a stare meglio. Sembra una sciocchezza, come anche sembra una sciocchezza sorridersi allo specchio la mattina prima di uscire di casa, in realtà fa tantissimo, cioè ci ricorda chi siamo e che cosa è veramente importante, quindi tante volte veniamo un po' distolti dallo stress quotidiano, dalle miliardi di attività a cui dobbiamo pensare, quindi ritornare a noi stessi. E quindi attraverso il cibo, attraverso il respiro, portare quella magia che c'è associata al cibo, io poi non l'ho detto perché ripeto oggi non c'è molto tempo, ma i cibi se li osserviamo, soprattutto quando sono freschi, crudi, sono diciamo i cibi di stagione, hanno anche dei colori, paradossalmente non ci facciamo caso, ma anche il colore è vibrazione, che cos'è il colore? Quindi il colore di un'albicocca piuttosto che di un carciofo o di una carota, quindi tutto quanto è energia e quindi ritornare a noi stessi ricordandoci questo legame con la natura, perché noi non siamo disgiunti dalla natura, noi facciamo parte della natura. Mi viene da pensare come il microbiota che abbiamo nel nostro intestino, quindi dei batteri che sono presenti, addirittura un chilo e mezzo di batteri abbiamo nel nostro intestino. Ecco, con questi batteri noi conviviamo, dobbiamo cercare di scegliere quelli buoni, anziché quelli diciamo meno utili per noi e come con loro conviviamo, noi conviviamo con l'ambiente, con il mondo esterno, siamo in interazione. E tutto questo è energia. Quindi il cibo porta, in questo momento di difficoltà, quindi concludendo il discorso, se scegliamo gli alimenti giusti, quindi facendo delle scelte oculate, lavorando sui prodotti più possibilmente freschi di stagione, aiutandoci, perché non discuto che in questo momento ci sono stati dei momenti di difficoltà, tanti magari hanno preso anche l'influenza, si sono ammalati, ecco andiamo a rafforzarci con gli alimenti, con qualche integratore ben scelto, per esempio una cosa che non ho detto che sicuramente aiuta tantissimo, per esempio ci sono alcuni funghi che sono estremamente efficaci, anche proprio contro, nei confronti dei coronavirus in generale, tipo lo shitake per esempio, un shitake ha delle proprietà interessanti, come anche appunto altri alimenti, come può essere appunto qualche alimento, anche ricco per esempio di magnesio, come l'uva, un vetta adesso è il periodo, anche se cominciamo come dire in fase, diciamo l'autunno verso l'inverno, sono alimenti che fanno bene, che sono ricchi di magnesio, di tutte queste vitamine che dicevamo. Ecco quindi questo cibo giusto che deve portare un po' di luce, quello spiraglio di luce che ci serve per andare in quella direzione e per uscire un pochino da questo tunnel. Per cui ecco, il cibo è anche luce. Abbiamo ancora 5 minuti per rispondere a un sacco di domande, quindi forse non riusciremo a rispondere, magari una risposta stringata. Veloce, velocissimamente. Te ne seleziono alcune. Simona Grossi, che tra l'altro è anche un'autrice anima, biologa, nutrizionista come te, che è l'autrice di Biologia Quantica. Ti volevo leggere il suo commento perché dice intervento molto chiaro e interessante, condivido tutto, vivere in un continuo stato di allerta e stress ci rende estremamente fragili e vulnerabili. Grazie. Grazie a lei. Lelli ha 46 anni e dice che beve 10 caffè al giorno. Cosa ne pensi? Se vuoi dire velocemente qualcosa. Ecco, io capisco che interrompere completamente il consumo di caffè dalla notte al giorno può essere complicato perché purtroppo porta dipendenza. Le consiglio di ridurre più che può, se non lo consuma è molto meglio, piuttosto bere qualche altra bevanda molto più naturale, a base anche di frutta. Tante volte basta anche un po' d'acqua con pezzi di frutta fresca in ammollo e man mano berserlo nella giornata. Se ha bisogno invece di un po' di spinta, perché magari tante volte il caffè ci aiuta a svegliarci, preferisco decisamente il tè verde. Ottimo. Che tra l'altro è potentissimo, antiossidante a differenza naturalmente del caffè. E meno stimolante del cortisolo, decisamente. Assolutamente sì. Giuse, adoro questa donna, è una grande professionista. Mi piace il suo modo di spiegare sempre in maniera esaustiva. Grazie Alessandra. Grazie Giuse. Indira Marcella scrive Soffro di una forma di artrosi che mi deforma mani e piedi. In questo periodo accuso un po' tutti i sintomi di cui hai parlato e il dolore a mani e piedi è aumentato. C'è una relazione fra le cose? Assolutamente sì. Nel senso che è sempre legato a uno stato infiammatorio del nostro terreno. Ecco, quindi noi abbiamo detto all'inizio che ci si difende dalle malattie, ma anche da malattie croniche, degenerative. Quindi purtroppo gli altri tipi di malattie di cui oggi noi non abbiamo parlato sono sempre comunque sostenute da una condizione di infiammazione perdurante nel tempo. Quindi bisogna andare a ridurre in maniera importante lo stato infiammatorio. Quindi assolutamente si può fare qualcosa. Diego fa questa domanda ma l'aveva fatta prima che tu accennassi l'argomento cioè chiede i colori del cibo possono influenzare la psiche. Assolutamente sì, anche i colori influenzano i colori in quanto tali proprio anche circondarsi per esempio di quei colori che ci mettono il buon umore. Questo sicuramente aiuta. Non a caso esiste la cromoterapia. Io sto facendo, ho cominciato a scrivere qualcosa anche su questo argomento che magari potrà essere oggetto di un futuro libro. Ci stavo proprio lavorando proprio non solo sui colori ma su quello che è l'energia del cibo o i colori. Bellissimo. Allora, Emy chiede compiere attività che pensiamo ci rilassino possono aiutare a ridurre i livelli di cortisolo? Oltre a questo mi chiedevo dove posso comprare il suo olio? Non so se volevo scrivere olio o libro. Forse libro. Forse libro. Ma risponderei sul discorso se va bene fare attività che sentiamo che ci rilassano. Ma certo, assolutamente sì. Nel senso che già l'istinto ci porta a fare quelle scelte. Quindi se facendo quell'attività ci sentiamo più tranquilli, rilassati e riusciamo a staccare la mente da tutto il resto allora evidentemente è una cosa che ci fa bene. Come dicevo prima noi non siamo tutti uguali quindi ognuno di noi deve trovare la sua chiave. Ci sono degli alimenti per esempio che a qualcuno magari non piacciono tanto ma altri però ecco sempre in una logica di ascoltarsi. Ecco quindi la stessa cosa vale per le attività. Ti leggo l'ultimo commento di Domenico. ma se la tv concilia il sonno disturba ugualmente frequenze e vibrazioni elettromagnetiche anche a distanza di due metri possono danneggiare insomma cosa ne pensi della tv da questo punto di vista? Allora io non penso assolutamente che la tv concili il sonno esattamente il contrario. La tv non concilia il sonno. In realtà è un meccanismo psicologico però più razionale cioè non so come spiegarlo in qualche modo è come se noi non riuscissimo a stare in silenzio con noi stessi. Abbiamo paura di sentire quello che l'inconscio ci vuole raccontare e allora ci stordiamo con la televisione e quindi a volte ci si addormenta anche con la televisione. Questo purtroppo non fa bene anche perché anche la televisione emette delle onde radiomagnetiche delle frequenze elettromagnetiche e quindi interferisce. Non ci dimentichiamo che i nostri neuroni sono sempre non dormono mai sono sempre attivi e generano quando comunicano tra di loro dei campi elettromagnetici quindi questi campi elettromagnetici tutte le volte che sono esposti o comunque troppo vicini a un cellulare a un telefono quindi a un televisore o una fonte di radiazione elettromagnetica sicuramente interferisce. Quindi ok non dico che non si debbano utilizzare questi strumenti però quando si arriva al momento che si deve andare a letto piuttosto un buon libro ecco non solo con un caso Biologia della nuova era che è il libro di Alessandra Corcelli io chiuderei il tuo intervento leggendo quest'ultimo commento sì grazie interessantissimo argomento trattato con molta chiarezza ma soprattutto con trasporto e tanto amore grazie sicuramente tanto amore per tutti spero che vi possa adesso qui concludo sicuramente ecco quello che è stata un po' la spinta a scrivere quel libro è stata la spinta d'amore in realtà perché io inizialmente avevo cominciato a scriverlo per me e poi ho detto ma perché io devo tenere per me tutto ciò e quindi ho detto va bene lo facciamo in modo che possa arrivare ma soprattutto sì amore per la vita amore per le persone spero che questo amore in qualche modo sia arrivato anche a voi vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti